Oggi un titolo strano, le altre proposizioni. Perché? Perché in realtà parleremo di tre proposizioni nuove, ma in realtà impareremo a distinguere molte altre proposizioni, perché quella di oggi è più che altro imparare un metodo, imparare un sistema. Che cosa è necessario però? È necessario che tu ti ricordi come funzionano i complementi dell'analisi logica della frase. Bene, cominciamo subito. Guardiamo queste due frasi. Mi annoiavo prima del tuo arrivo. Mi annoiavo prima che tu arrivassi. Il significato di queste due frasi è uguale, ma se noi facciamo l'analisi di queste due frasi ci accorgiamo già di un elemento diverso che poi è l'elemento fondamentale. Mi annoiavo prima del tuo arrivo è una frase di cui io posso fare l'analisi logica. Per fare l'analisi logica di questa frase io trovo il predicato e dico subito che questo è un predicato verbale. Mi chiedo chi è il soggetto, cioè chi compie l'azione del predicato. Io, soggetto sottinteso perché non è scritto da nessuna parte, prima del tuo arrivo a quale domanda risponde? Che tipo di informazione mi dà? Beh, la domanda che mi viene subito spontanea è quando. quando mi annoiavo prima del tuo arrivo. In analisi logica il complemento che mi dà l'idea del tempo, del momento in cui accade ciò che viene indicato dal verbo è il complemento di tempo. poi tu sai che c'è un tempo determinato, un tempo indeterminato, però adesso non ci interessa, l'importante è aver individuato il complemento. Passiamo alla frase sotto. Mi annoiavo prima che tu arrivassi. Qui posso fare l'analisi del periodo. Individuo i verbi, mi annoiavo, arrivassi, sono due verbi, quindi io ho due proposizioni. Mi annoiavo è la prima ed è anche la principale. Prima che tu arrivassi è una subordinata di primo grado perché è collegata direttamente alla principale, esplicita perché ho il congiuntivo. Che informazione mi dà? Mi dà un'informazione di tempo. Cioè mi sta dicendo quando è che io mi stavo annoiando. Cioè mi sta dicendo quando accade ciò che viene espresso dalla sua reggente. E allora questa, che risponde anche lei ha la domanda quando, sarà una proposizione temporale. ti sarai già accorto di qual è la differenza tra questa prima frase e questa seconda frase. La differenza è che io qui ho un complemento di tempo. Cosa significa? Significa che ho un solo predicato. predicato. Qui invece io ho una subordinata temporale. Perché? Perché ho un altro predicato. Cioè ho una frase prima che tu arrivassi che ha la stessa identica funzione del complemento di tempo. La differenza consiste proprio nel verbo. Quindi la differenza sta proprio in questo. Che qui il predicato non c'è. Mi annoiavo. Prima del tuo arrivo è un complemento. E quindi il predicato non c'è nel complemento. Il predicato c'è nella frase. Invece qui il predicato c'è. Perché? Perché questa è una proposizione. E quindi il predicato è presente. La domanda abbiamo visto che è la stessa. Quando? Mi annoiavo. Quando? Prima del tuo arrivo. Mi annoiavo. Quando? Prima che tu arrivassi. Infatti. Il loro significato è uguale. Questo però è un complemento. Complemento di tempo. Questa invece è una proposizione. Una proposizione temporale. Vediamo degli esempi. Ero senza l'ombrello durante l'acquazzone. Bene, facciamo la nostra analisi. All'interno di questa frase, dove c'è un solo predicato, ho un'indicazione di tempo? Certo, eccola qua. Durante l'acquazzone. Io ero senza l'ombrello quando? Durante l'acquazzone. E infatti durante l'acquazzone è un complemento di tempo. Veniamo alla frase sotto. Ero senza l'ombrello mentre pioveva. Qui posso fare l'analisi del periodo. Ero senza l'ombrello è la principale. Quando ero senza l'ombrello? Mentre pioveva. Questa sarà una proposizione temporale. Vedi, è la stessa cosa. Li distingue soltanto la presenza del verbo oppure la mancanza del verbo. Ma l'indicazione che mi viene data è un'indicazione temporale. Quindi, il complemento di tempo indica il momento in cui avviene l'azione espressa dal verbo. La proposizione temporale indica il momento in cui avviene ciò che è detto nella sua reggente. In pratica, nell'analisi logica noi abbiamo un verbo, il predicato, e una volta individuato il suo soggetto, noi potevamo andare alla ricerca dei complementi che dipendevano da questo verbo. Quindi, il complemento di tempo è uno dei tanti complementi. In questo caso, è quello che indica il momento in cui avviene ciò di cui si parla nel predicato. L'analisi del periodo, invece, ha una struttura diversa. Ti ricordi che abbiamo un andamento a scala, perché abbiamo delle proposizioni reggenti, cioè che sostengono delle subordinate. Allora, la proposizione temporale che cosa indicherà? Indicherà il momento in cui avviene ciò che è detto nella sua reggente. Però vedi che il meccanismo è lo stesso. L'informazione è la stessa. La regola, quindi, d'oro da ricordarsi, è la differenza tra un complemento e una proposizione. Il complemento non ha il predicato, la proposizione sì. Guardiamo degli altri esempi. Quando cammino, mi fa male una gamba. Facciamo la nostra analisi. Cammino è un predicato, fa male è un altro predicato. Quindi, io ho due proposizioni. Questa è la principale. Mi fa male una gamba. Quando mi fa male una gamba. Quando cammino. Questa è una subordinata, perché comincia col quando, quindi non può certo stare da sola. Di primo grado. Esplicita, perché ho un tempo all'indicativo. Che tipo di informazione mi dà? Mi dice il momento in cui mi fa male la gamba. Quando cammino, mi fa male una gamba. Proposizione temporale. Veniamo a quella sotto. Gli insegnanti dicono che non avrai problemi finché studierai. Qui ho tre predicati. Quindi, gli insegnanti dicono che non avrai problemi finché studierai. Gli insegnanti dicono è la principale. Questa è una subordinata di primo grado esplicita. Che informazioni mi dà? Gli insegnanti dicono che cosa dicono che non avrai problemi. Oggettiva. Subordinata di secondo grado, perché è collegata a questa, collegata a questa qui. Esplicita, perché ha un verbo all'indicativo. Che tipo di informazione mi viene data? Un'informazione di tempo. Non avrai problemi quando non avrai problemi, finché studierai. Ti sarai accorto che però non è un meccanismo del tutto nuovo, no? Perché anche questa, che è un'oggettiva, in fondo svolge la funzione di un complemento oggetto. Cioè, la funzione che in analisi logica noi chiamavamo complemento oggetto. E questo non è altro che l'espansione di un complemento di tempo, perché c'è anche il verbo. Veniamo all'ultima. Prima che qualcuno si lamenti vi avviso che ognuno ha un libro assegnato dal prof. Qui bisogna stare attenti, eh? Allora, abbiamo si lamenti, avviso, ma anche questo è un verbo, è un participio passato. Quindi, prima che qualcuno si lamenti, è una. Vi avviso, è un'altra. Che ognuno ha un libro, è un'altra. Assegnato dal prof, è l'ultima. La principale è questa, perché è l'unica che può stare da sola. Adesso passiamo a sistemare le altre. Vi avviso, che cosa vi sto dicendo? Subordinata di primo grado, esplicita, oggettiva. Ha un libro, assegnato dal prof. Questo participio passato, che indica una subordinata di secondo grado implicita, Per capire che tipo di informazioni mi sta dando, è bene che io lo renda esplicito. Ognuno ha un libro che è stato assegnato dal prof. Ed ecco che allora io riconosco una proposizione relativa. Qui ho un'altra subordinata di primo grado, perché è collegata alla principale. Esplicita, perché ha il verbo al congiuntivo. Proviamo con queste, perché finora abbiamo visto solo delle temporali esplicite. Volevo farti vedere un paio di esempi anche sulle implicite. Una volta scoperto il trucco, diventa tutto più facile. Diventa tutto più facile è la nostra principale. Quando diventa tutto più facile? Una volta scoperto il trucco. Quindi questa sarà la nostra subordinata di primo grado, implicita, perché questo è un participio passato. Temporale. Idem quella sotto. Prima di dormire guarderò un film. Guarderò un film è la mia principale. Prima di dormire. Vedi che anche in questo caso noi abbiamo una subordinata di primo grado implicita, implicita perché ho il predicato all'infinito, ma temporale. Bene. Se hai capito il meccanismo, lo possiamo applicare anche ad altre proposizioni. Ad esempio, la proposizione causale. Il complemento di causa indica il motivo, la causa, per cui avviene l'azione espressa dal verbo. La proposizione causale indica il motivo di ciò che avviene nella sua reggente. Guardiamo adesso degli esempi, ma ti accorgerai che il meccanismo è lo stesso. Ecco qua. Ho sostituito il cellulare perché si era rotto. Ho sostituito il cellulare è la principale. Per quale motivo? Qual è la causa che mi viene detta nella reggente? Nella reggente mi viene detto che ho sostituito il cellulare. Ma perché? Perché si era rotto. Il motivo è la sua rottura. Quindi, subordinata di primo grado, esplicita. In questo caso avremo una proposizione causale. Vedi che il meccanismo è lo stesso. Mi sta dicendo la causa, né più né meno come un complemento di causa. Siccome ero stanco, sono andato a dormire. Perché sono andato a dormire? Perché ero stanco. Ecco qua la nostra proposizione causale. Siccome ero stanco, sono andato a dormire. Questa è la causa. È la proposizione causale. Stupito dalla notizia non aprì bocca. Perché non ha aperto bocca? Perché era stupito dalla notizia. In questo caso abbiamo una causale implicita, ma è pur sempre una causale. Cioè ci viene detto il motivo della sua reggente. Cambiò canale avendo già visto quel film. Perché ha cambiato canale? Perché aveva già visto il film. Questa è un'altra proposizione causale, sempre implicita, perché avendo visto è un gerundio. Ma è una proposizione causale, cioè ci spiega il motivo per cui è stato cambiato il canale. La stessa cosa, vedi? Lo stesso meccanismo. E allora, per finire la lezione di oggi, possiamo applicare questo ragionamento anche alla proposizione finale. Ricordiamoci qual era il complemento. Il complemento di fine indica lo scopo per cui avviene l'azione espressa dal verbo. Bene, allora la proposizione finale indicherà lo scopo dell'azione che avviene nella sua reggente. Guardiamo degli esempi. Ti do il mio numero affinché tu possa chiamarmi. Perché ti do il mio numero? Con quale scopo io ti do il mio numero? Affinché tu possa chiamarmi. Questa sarà una proposizione finale. Andiamo a individuarla anche nelle altre esempi. Ti ho avvisato perché lo sapessi. Per quale motivo io ti ho avvisato? Ecco lo scopo, il fine. Perché tu lo sapessi? Mi sono iscritta a un corso per imparare il giapponese. Qual è lo scopo della mia iscrizione? Come imparare il giapponese? Vado al supermercato per fare la spesa. Perché vado al supermercato? Qual è lo scopo? Per fare la spesa. Ricordati sempre di non confondere la proposizione finale con la causale. È la stessa cosa che succedeva col complemento di fine e il complemento di causa. La causa è qualcosa che è già successa. Il fine invece no. È il motivo per cui io sto facendo qualcosa. È il fine da raggiungere. Vado al supermercato per fare la spesa. La spesa non l'ho ancora fatta. Vado al supermercato con questo scopo. Con questo fine. Allora, cosa abbiamo imparato in questa lezione? Abbiamo imparato a riconoscere le proposizioni che derivano dai complementi. Cioè, abbiamo capito che nel momento in cui io ho davanti una proposizione, quindi ho una frase con un verbo da analizzare, il meccanismo però è lo stesso delle informazioni che io ricavavo dall'analisi logica. Come al solito ti auguro buon lavoro e spero di rivederti alla prossima. Grazie. 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 Grazie.